niente sigla niente cazzate questo è un video senza fronzoli ed è anche un video altamente egoista perché è più utile a me che a voi faccio questo brevissimo video semplicemente perché poi avrò la possibilità di linkarlo a tutti coloro che da qui in avanti continueranno a rompermi il cazzo su sta storia di perù che sono di parte a perché non parli anche delle cagate che hanno fatto tizio e caio questi video sono monotematici non c'è obiettivo io più volte ho detto nei video storici litfibo mi turner da parte 1 e parte 2 di dieci anni fa l'ho ribadito poco tempo fa nel nuovo video quando riprese in mano questo canale piero pelù ha fatto cose che mi piacciono anche nella carriera solista in faccia secondo me è un grandissimo album ma non esclusivamente nell'ottica della discografia per più se consideriamo solo inscrivere per lui è a mani bassi il disco più bello di per lui è un capolavoro da undici visto che c'è cose da tre uts ma è proprio secondo me un disco valido come disco rock italiano quindi piero le cose buone è stato capace di farle ci sono cose buone anche qualcosa dentro fenomeni è buono c'è anche qualcosa in soggetti smarriti senza poi considerare la dimensione live dove anche lì ci sono come da format principale di questo canale mito e merda dei momenti in cui è stato particolarmente ispirato ad esempio il disco live ibrido intervista storytellers è fantastico sia come prodotto sia per qualità di esecuzione canta molto bene pieroli si sente tutto molto bene con questa vena acustica che è la stessa cosa che mi ha fatto apprezzare in faccia molto interessante questo rock acustico a dimostrazione che non bisogna per forza sempre esasperare urlare mettere il chitarrone distorto per fare rock topos classico del rock è la ballata anche abbastanza sdolcinata d'amore e i rocker sono fatti così morbidi dentro con una scorza dura fuori e anche per quanto riguarda l'itfiba e gli altri progetti solisti dei vari personaggi che nel tempo hanno fatto parte della band ci sono state cose notevoli altrimenti mito e merda datemi tempo parlerò di tutto se provenite dal futuro e state guardando oggi questo video che per me è il presente troverete sicuramente sul canale tantissimi altri contenuti recensioni di dischi libri biografie chissà cos'altro del mondo l'itfiba e non su alcune mi sarò espresso positivamente su altre negativamente in base a quello che avrò reputato tale in quel determinato contesto quindi sostanzialmente non cagate un cazzo cristo io vi abbraccio e restiamo umani ehi tu persona del futuro i riquadri che vedi a destra e sinistra sono dei video consigliati meravigliosi quindi clicca guarda cose meravigliose ciao ciao ciao